Salve a tutti ragazzi e benvenuti in un nuovo video di Minecraft. Stiamo per provare una mappa fighissima che è uscita da poco su Minecraft. Questa mappa è ispirata al videogioco Doom. Noi siamo arrivati qua in questo mondo pieno di demoni, dobbiamo combatterli. Questa mappa è incredibile perché non ha neanche una mod, è tutta fatta con datapack e cose così, e texture. Noi siamo sempre qua, io sono loco, piacere a tutti, salve e buongiorno. Vi giuro non mi sembra neanche Minecraft, mi sembra giocando a un altro videogioco completamente. Guardate che bello, ci do un'animazione su Minecraft, è fighissima questa cosa. Questa è la nostra armatura. Ti sta facendo la nostra armatura da solo, che bello. Eccoci qua, abbiamo indossato la... Ma ragazzi, ma quanto è bella, ma è tutto fatto benissimo qua. Allora, noi teoricamente dobbiamo completare questo livello e sconfiggere tutti i demoni che ci sono all'interno di questo mondo. È la prima volta che la provo, quella blu... Cos'è che sta parlando? Che parla, che sta parlando? Dai, già che nemmeno capisco l'inglese, sono stupido. Allora, teoricamente quella blu è la nostra vita e questi dovrebbero essere gli scudi. A me sembra fanno dei soldi. Invece sono gli scudi, da quanto ho capito. Ma che belle... anche queste armi sono bellissime. Ok, perfetto. Demoni! Salve, buongiorno, come sta? Tutto bene? Mi sembra un par... Ah, ma mi spara fuoco questo! Ma come ti permetti? Prendi questo! Ma io di questo ho le munizioni, invece di questo non ce le ho. Devo premere L. Ok, qua ci dice tutte le nostre armi che abbiamo. È fatta troppo bene. In descrizione vi voglio lasciare il link per scaricarla, se volete giocarla anche voi, perché è troppo bella. Quindi, teoricamente, il nostro compito sarebbe combattere i demoni. Oh, ma ci sono anche le porte automatiche! Qua non posso passare. Ti sparo, ti sparo addosso! Ah, ma qua ci sono idee! Posso venire a farvi visita? Ok, queste che ho preso sulle munizioni, invece questa... Ah, ok, questa è la vita. Dovete sparire dalla mia vista. Che bello sperare con queste armi! Siamo tipo delle armi aliene. Ma cosa potete fare con tutti i miei? Sono troppo forti, io non mi potete battere. Ok, il massimo di munizioni è di 22. Esploriamo un po' questa zona, che è davvero bellissimo. Comunque, vado velocissimo io. Ho speed 5, sono velocissimo io. Salve, buongiorno, come va? Tutto bene? I demoni, però... Ma quanto... Ma tu sei un villager? Tu hai la faccia grossa come quella di un villager, ma non avete il naso. Di villager finti, villager demoni siete. Eh, avete rotto! Sparite dalla mia vista! Ok. Sì, ce l'ho fatta! Checkpoint. Salve, buongiorno, posso andare avanti? Cosa è questo posto? Anche qua mi rigenera tutta la vita, perfetto. Qua io posso andare avanti? Salve, buongiorno... In chiuso nel loro laboratorio. O sono loro venuti a distruggere me? Cos'è questo posto? Vedo qualcosa! Ok, si sta fermando, ha rallentato. Siamo arrivati. Permesso, posso uscire? Grazie mille, gentilissimi. Cos'è questo posto? Penso che questa sia la base di demoni. Però sono sulla superficie di questo strano pianeta. Posso collezionare degli oggetti durante questo livello. Alcuni sono nascosti. Questo è un oggetto? Ma che bello! Una statuina di me, tipo. Sono io, guardate che bello. Siamo uguali. Ok, adesso dov'è che devo andare? Non è che devo buttarmi? Non voglio buttarmi, ho paro di morire io. Non troppo giovane per morire. Buttiamoci su, forza! Ah, la mia armatura mi impedisce di prendere danno. Non potrei dirmelo prima che io mi buttassi? Ovviamente no, cos'è questo? Una granata! Una granata! Premiamo L. Abbiamo la granata, che bello! Quanti ce ne sono? E cosa è quello coso? Lanciamo una granata a quel tizio lì, mi sembra molto... Ho sbagliato a lanciarla. La granata funziona a me, non abbiamo capito questo. Ma ha una pistola a quello! Ha una pistola come me. Mi ha beccato. Ma come ti permette a beccarmi? E sto scendo giù e ti spacco completamente. Prendi questo, prendi questo! Usiamo l'altra. Non voglio spiegare tutte le munizioni che ho perché ne ho poche. Ok, ho metà vita. Devo stare molto attento perché potrebbe uccidermi in qualsiasi momento. Quello lì. Le verdi sono le granate e quelle rosse sono le munizioni. Adesso, prendi questo! Ah, muori! Ti prego! Non è morto! Quanto è potente questo! Beh, devi... Ok. Ce l'abbiamo fatta. Oh mio, questi mi fanno spaventare in una maniera incredibile. Prendiamo anche lo scudo. Oh, perfetto. Questo... C'è scritto che è infiammabile. Quindi, se è infiammabile, io ci sparo. Che figata! Posso uccidere i mostri così, io? Mostri, dove siete? Ho trovato una nuova tecnica per uccidervi tutti. Mostri? Per qualcuno? Prendiamo le granate che fa sempre bene. Oh, cos'ha questo rumore? Ne sono spugnati altri! Ok, la granata? Vabbè. Prendi... Esplodete! Ok. Tu non sei esploso. Perché non sei esploso? Ok, dovrei avercelo affattare. La porta si è aperta. Cos'è quella cosa lì? Cos'è quel mostro lì che è seduto? Io ho paura di avvicinarmi. Aspetta. Andiamo dall'altra parte che non vorrei... Permesso, posso passare? Devo trovare la chiave blu per passare. Dov'è la chiave blu? Mi sa che devo andare dal mio amichetto lì seduto. Salve amichetto. Ci sono guardie di litte morte. Ah, ma sei morto allora! Ah, 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 sei morto, sei morto. Non mi puoi fare nulla. È davvero gigante. Se fosse vivo, sarei morto io. Allora, andiamo avanti. Vediamo cosa c'è. Ok, c'è. Eccolo, è la blu card quella, teoricamente. Posso passare? E dovete, dovete levarvi. Dovete farmi passare. Non posso passare. Ah, è aperto di qua. Ma ditemelo subito che è aperto, no? Ok. Blu K-Card acquired. Uh, Elite Guard, stai lì seduta. Mi raccomando, se ti svegli... No, no, svegliarti. Non devi svegliarti. Posso passare adesso? Accesso garantito, grazie mille. Il fatto che non senta quei demoni da un po' di tempo mi dovrebbe spaventare. Perché potrebbero arrivare in qualsiasi momento. Voglio esplorare un po' questo bellissimo pianeta. Andiamo da questa parte. Vediamo cosa c'è qua. Ve lo trovate tutte le statuine io. È buio. È troppo buio, aiuto. Non vogliamo andare di qua. Ecco la statuina. L'ho trovata la statuina. Però, com'è che ci salgo lì io? Ok, forse da lì. Forse da lì posso prendere la statuina. Io voglio completare questo livello al 100%. Quindi devo prendere tutte le statuine. Quindi da qua posso saltare? Ok, perfetto. Siamo arrivati in cima. Che bello. Statuina, vina me, perfetto. Che bella statuina. Due di quattro. Me ne mancano altre due. Comunque sembra che questi demoni abbiano costruito una civiltà su un pianeta sconosciuto. Io posso andare... Oh, cavoletto. Eh, ma buongiorno. Siete qui sotto. Cosa vuole... Aiuto, mi sparafuoco. Allora. Mi avete abbastanza stancato. Quindi prendete questo. Siete fortunati che non ho più granate. Se avessi granate voi con le granate. Però non le spreco con voi perché siete deboli. Siete troppo deboli. Io sono fortissimo invece. Left click su queste cose per prendere munizioni. Ho preso munizioni ma sono già pieno. Non me ne facevo nulla. Vabbè. Ho comunque... Le ho prese comunque. Allora, questo posto mi sembra... Ok, là c'è un altro di quei portali. Che spawnano tantissimi demoni. Quindi per il momento là io non ci vado. E qua sotto cosa c'è? Ok, non voglio sapere cosa c'è. Esploriamo questo pianeta e prendiamo gli scudini. Così quei mostri non mi possono uccidere. Ok, dovrei essere al massimo di scudi finalmente. Sto scrivendo una canzone sui demoni che mi vogliono mangiare il cervello. La canzone si intitola I demoni vogliono mangiare il cervello. E il testo fa Ah, mi sono mangiato il cervello. Sto entrando in una caverna. Con troppa nonchalance. Devo fare molto piano. Ah, ma sono sceso dove ero prima. Io ero là sopra prima. Adesso sono qui sotto. Potrebbe arrivarmi un ride in faccia di quei bellissimi demoni. Non è che se... Allora, non è che... Non sto capendo. Perché là c'è il laboratorio. Sembra un laboratorio con un portale. E qua sotto cos'è che c'è? Ah, forse io posso salire da lì? Vediamo se posso salire in qualche modo. Ah, ma buongiorno. Posso salire? Oh, ma... Posso entrare? Non posso. Non mi fanno entrare. Io sono venuto in questo posto per cosa? Era inutile. Basta, mi sono stancato. Andiamo a uccidere un po' di demoni. Salve demoni, come state? Mi eravate mancati con la vostra testa rettangolare da villager. Dovete sparire da ora. Ma quante vite avete? Ho lanciato una granata. Ho sprecato una granata. Non volevo farlo. Ho sbagliato. Scusatemi, è colpa mia. Sono stupido. Ok, ci sono un po'. Questi sono i più deboli, da quanto mi ricordo. Quindi, se faccio così, muoiono tutti. Ah, ma se io li becco sulla testa, li becco alle gambe, non succede nulla. Se io becco la testa, muoiono in un colpo. Beh, fighissima sta cosa. Quindi, se miro la testa, muoiono in un solo colpo. Se miro, se non miro manco la testa, non muoiono. Posso prendere questo cuore? Ok, ho preso il cuore del portale. Adesso lo sponeranno i miei amiconi. Salve, amici. Ok. Ok, allora, quello lì è potente. Devo stare attento, non ho granate. Mi servono delle granate. Cos'è questo posto? Venite qua, demoni. Vi faccio esplodere la faccia. Avvicinati, su, amico mio. Però, tu hai la pistola, non va bene. Devi avvicinarti qua, ok. Avvicinati così spara quel coso. Se devi venire da me, però. Ok, bravissimo, quanto sei bravo. L'ho mancato, sono stupido. Doveva avvicinarsi di più. Ah, l'ha ucciso subito. Eh, non mi sembrava così tanto difficile, allora. Qua c'è un altro guardiano d'elite. Ok, ho preso il pretor suit upgrade. Non so neanche cosa vuol dire, però va bene. Ha un nome bello, interessante. Ah, vi becco in faccia. Siete stupidi. Aiuto, è velocissimo. Via, 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 via. Ma posso beccarlo? No, no. Stavo cadendo. Sono caduto qua. Non posso cadere, a quanto pare. Se io cado, mi tippa indietro. Ok. Se ne sono andati tutti? Forse tutti se ne sono andati del tutto. Cerco la musichetta, quindi non se ne sono andati. Se in videogiochi sentite una musichetta, non se ne sono andati. Cos'è questo? Ho trovato una leva. Scusa, ma cosa ha fatto la leva? Devi sparire. Sono tornati! Aiuto! Ma comunque sono bellissimo con questa armatura. Devo dire, mi fa dei muscoli pazzeschi. Ok? In due colpi si deve con la testa. Oh, perfetto. Ci sono altri? Ho voluto combattere ancora contro l'orco. Il cacciatore di demoni più potente. Che manco sa saltare. È più potente che non sa saltare. Oh, perfetto. Una granata. Non smetti di sparare un fuoco. Devi... Devi... No, mi hanno rotto tutti i scudi. Adesso non ho più scudi. Ma lui dove spara? Ma io posso colpirlo da qua. Manco lo scuole beccarlo. È troppo lontano. Devi venire qua, amico mio. Ok, lo sai che... Tu sei cattivo e anche brutto. Io sono bello e buono, quindi vinco io. Mi spiace. I buoni vincono sempre, soprattutto i più belli. Quindi loco è bello. Quanti siete? Perché ci sono così tanti? No, no, no. Non ho più scudi e... Ok, devo recuperare tutta la vita. Ok, perfetto. Via, sparite! Sparite! Non voglio morire! Non voglio morire, sono troppo giovane per morire. Devo raccogliere anche l'ultima statuina che non ho ancora trovato. Appena troverò l'ultima statuina potrete pure uccidermi. Siamo a posto per tutta la vita. Ok, li uccidi tutti. Prendiamo altre cure e siamo a posto. Un'unica granata. No, come... Come amassiamo granate? Massimo una le posso avere. Ma questa cosa è ingiusta. È sbagliata. Immorale. L'è andato la musichetta c'è ancora. Però io ho notato che lì c'è una porta. Vorrei andare a vedere cosa c'è. Perché potrebbe essere se c'è la mia statuina. Allora, buongiorno. Non posso abbandonare l'area. A quanto pare, ho cito prima tutti. Oh, ce l'ho fatto. E ne mancava uno allora. Demon Presence Eliminated. E' effetto, quindi posso andare a vedere se c'è la mia statuina? Che io senza di quella... Non me ne vado sicuramente a questo posto. Statuina? Secret found. Cos'è? Cos'è sto posto? Ho trovato un segreto. Ma cos'è? Cosa succede? Devo far spostare qualcosa? Granata! Ok, non funziona. Devo sparare qualcosa? Devo sparare a questi oggetti? Devo sparare a... Non sto capendo cosa devo fare. A quanto pare, devo andarmene via. Che nessuno mi vuole. Ok, lì c'è la porta aperta. Quindi posso andare avanti. Però, non me ne vado avanti senza mia statuina. Mi sa che ho finito il primo livello. Però dove è la mia statuina? Me ne manca ancora una. Senza la mia ultima statuina non me ne vado io. Statuina, vengo a cercarti. Dove sei? Non ti abbandono mica io. E se per caso la mia statuina fosse qui sopra? Non posso arrivarci qui sopra. Allora, l'unico posto in cui non ho trovato statuine era questo qui sotto. Quindi, o la mia statuina è qua, oppure non so più dove cercare e ne ho persa una. Ma io non voglio andarmene senza l'ultima statuina. Per favore. Cos'è questo? Un carello? È bellissimo. Guardate che bello. Ragazzi, dopo finalmente 15 minuti di ricerca, ho trovato l'ultima statuina. La mia statuina bellissima. Era qua dove ho fatto esplodere quella cosa. Ciao piccolina, ti ho trovato tutte e quattro finalmente. Adesso posso completare il livello e salutarvi. Ho finito il livello. End of level. Io vi la saluto ragazzi. Ditemi se volete altri episodi di questa piccola serie. In questa incredibile mappa ci sono altri tre livelli mi sembra. Uno più difficile dell'altro. Uno più bello dell'altro. Con la mia faccia e tutte le statuine che stanno per affarire, vi saluto. Grazie per essere ci stati. Noi ci vediamo con un prossimo video. Ciao a tutti. Ciao a tutti.